Salve a tutti ragazzi bentornati sul mio canale ZOOPAPA GALLI questa qui che vedete è una futura voliere in costruzione diciamo ho voluto realizzare questo progetto perché i pappagalli stanno diventando tanti e li tengo nelle gabbie e non mi sembra giusto è giusto che siano liberi è giusto che vogliono che sgranchiscono le ali eccetera eccetera e così ho deciso di costruire questo voliere è abbastanza grande perché è alta 2 metri largo 2 metri 13 ecco la porta qui come vedete ecco qui è tutto soldato unito e fissato al muro davanti c'è una vetrata che ho riciclato perché era di una vecchietta batteria l'ho riciclato usandolo come parete così può bloccare l'aria e anche il gelo il freddo e qua sopra ho messo una gheredia di ferro come vedete così l'aria si può entrare e uscire un cambio d'aria diciamo una cosa del genere ecco e il tetto è da finire ancora la porta eccola qui ci sono le chiavi e entriamo ecco appena adesso il vetro è sospeso così saldato e tenuto solo con due casette eccola qui il tetto devo ancora finirlo questo è solo la prima parte del video qui metterò una finestra chiusa e davanti alla porta metterò una rete in modo che quando entro loro non scafano fuori ecco questo è il piccolo progetto che sto realizzando per i papagali macchia ciao e oggi ho intenzione di lavorarci su ancora un bel po' e vediamo settimana prossima farò il secondo video dell'andamento del progetto ecco per il momento è tutto spero che vi sia piaciuto il video insomma finito e completato sarà tutta un'altra cosa questo è solo il ricordo questa è solo la prima parte del video ciao alla prossima e non dimenticare di iscriverti al canale per non perdere i nuovi video e gli aggiornamenti ciao 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 ciao